un nuovo video di tweener, nuovo, sì, di un giorno fa questo tiktoker è peggio di maria sofia a me è un pochino dispiace quando maria sofia viene insultata in questo modo probabilmente però se le cerca quindi non lo so io non la seguo, quelle poche cose che ho visto sono state veramente grazie ai video di sbortus e tweener però non ho realmente veramente capito perché si prende tutta quella merda addosso ma magari ce lo spiegherà tweener in questo video e ci illuminerà anche riguardo a quest'altra tiktoker, vabbè guardiamo la ragazza ancora si definisce attivista maria sofia la ragazza ancora si definisce attivista ormai da qualche anno ci intrattiene con le sue dichiarazioni iniziative assurde al punto che ci ha addirittura fatto un video in cui descrivo il suo declino ma una domanda che forse alcuni di voi si saranno fatti è come mai da un giorno all'altro perché è censurata a sta parte? vabbè silenzio devo guardare al posto di farmi le domande ti siamo ritrovati questa ragazza praticamente ovunque alle Iene, alla Zanzara, sui giornali, alla Rocco Academy fondamentalmente sta ragazza come è spawnata nella nostra vita e nei nostri algoritmi di social beh la risposta è che lei ha nel mio algoritmo comunque non l'ho mai vista secondo me te ne vai anche a cercare a certe cose se guardi sempre i casi umani e non dico che Maria Sofia sia un caso umano però in generale se guardi i casi umani ti uscirà qualcos'altro che viene reputato da altri un caso umano anche se magari non lo è per dire però è anche colpa delle persone che se la beccano nell'algoritmo perché è il loro algoritmo a me non è mai uscita mai è giusto Wolf ma tra l'altro vabbè non lo dico adesso vabbè guardiamo ha partecipato a un programma tv chiamato Il Collegio che le ha regalato una grandissima visibilità e fama lei stessa ha poi dichiarato di aver partecipato proprio per questo motivo in seguito poi ha voluto sfruttare questa visibilità per le ragioni che conosciamo molto bene ed è ignorante visto che non ho mai seguito il collegio pensavo che Maria Sofia fosse la concorrente che ha deciso di sfruttare la fama ottenuta dal programma nel modo peggiore tuttavia sono qui per ammettere che potrei aver commesso un errore infatti c'è un'altra ragazza che è diventata virale in questi giorni anche lei ex del collegio che ha ottenuto inizialmente visibilità con quel programma che ha pubblicato un nuovo video in cui annuncia uno nuovo che paura raga che paura mi fa molta paura va beh è così non lo so è veramente spaventoso tutto questo è un filtro vero nuova iniziativa che definire assurda sarebbe riduttivo fa quasi sembrare i discorsi di Maria Sofia quasi e lo sottolineo quasi sensati al confronto e infatti ha creato parecchio scandalo quindi oggi ci andremo a vedere questo tiktok di questa collegiale che vuole seriamente fare concorrenza a Maria Sofia mi hai risaputo che chi sta guardando questo video ma Maria Sofia è una pro cazzo sta da anni sui social cazzarola si confronta con un botto di persone e non riescono a buttarla giù in nessun modo in che modo crede quest'altra di superare Maria Sofia non c'è proprio se devo stare dalla parte di qualcuno sto dalla parte di Maria Sofia per ora però vabbè guardiamo guardiamo sente essere iscritto a un 83% di probabilità che la sua futura figlia seguirà tutti gli step di Maria Sofia compresa la Rock Academy a 18 anni e io non rischierei ma adesso direi che ascoltiamo la nuova iniziativa di questa ragazza che ha annunciato su tiktok raga torno a scuola solo per essere espulsa Dio mio potrei dire delle cose orribili ma non posso dirle perché sono in live e devo essere hashtag educativa almeno un minimo ma che cazzo appena sentito perché io perché perché mi devo trattenere mi devo trattenere perché sono vincolata io stessa dalle persone che guardano perché se non fosse che la mia cattivere viene passata viene presa calcolata come veramente un qualcosa di cattivo direi quello che penso sul serio ma non voglio essere non voglio essere presa per quella stronza cattiva anche se avrebbe senso quello che che vorrei dire però vabbè mi trattengo mi sta venendo mi sta venendo il nervoso il nittic nervoso comunque sì vabbè guardiamo e voi direte Vitto ma ci sei o ci fai e porta anche il mio nome che disgrazia che disgrazia non va bene comunque Vittoria Vittoria lei almeno questo mi distingo per due o tre lettere va bene però no 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 io vi dirò ci sono e ci faccio in questo momento se andasse a scuola streamer fasulla reaction fake forse un pochino lo sono dovrei essere più reale mmm mmm di fatti tra poco accadrà cosa in questo momento se andasse a scuola sarei con i 010 di fatti tra poco accadrà proprio ed esattamente questo solo che c'è un piccolo dettaglio che ci stiamo scordando perché perché effettivamente non sto andando a iscrivermi in una scuola per lei ha fatto il collegio ricordiamo studiare ora vi spiegherò il mio progetto ma con un piccolo recap spoiler alla terza media allora devo dire che il video era partito anche piuttosto bene le prime quattro parole erano state raga torna a scuola e il video avrebbe potuto tranquillamente finire lì sarebbe stato un bel video con un bel messaggio e invece poi ha voluto andare avanti in pratica come dice lei non ha mai proseguito con le superiori il che vuol dire che se dovesse ritornare a scuola dovrebbe ripartire dalla prima superiore e quindi con quelli nati nel 2010 scusa ma non esistono modi dove tu fai tot anni in uno adesso che sono delle scuole diverse non devi per forza andare in una scuola adesso per farti tutti gli anni ci sono delle cose che esistono da anni dove tu fai un mix di cioè fai letteralmente più anni in uno non capisco dunque si sarebbe ritrovata in classe con dei ragazzi con un po' di anni in meno di lei ma comunque niente di infattibile insomma anche perché volendo ci si può iscrivere a quelle scuole che ti fanno fare più anni in uno per recuperare ma lei non ha nessuna intenzione di andare a scuola per imparare qualcosa giusto mi stavo dimenticando questo piccolo dettaglio vero broma ma solamente per farsi espellere e fare casino non mi manca andare a scuola ha specificato quanti anni ha dalla faccia dimostra 40 dalle mani 15 mi sto vivendo la mia vita abbastanza bene l'unica cosa che realmente mi manca di scuola è il casino che facevo mi ricorda sai chi quelle signore abbastanza ormai d'età anziane che però sono piene di soldi e hanno la faccia di plastica lei mi ricorda quello torniamo indietro dobbiamo sentire quello che dice che realmente mi manca di scuola è il casino che facevo guardate no vabbè ragazzi c'è una di quelle persone che tu sei veramente sei in quell'ambiente e guardi così schifato e dici ma tutto a posto col cervello sono personaggi cringe veramente tanto avete visto ha fatto delle storie in classe ma come si fa essere così trasgressivi incredibile cioè questa non ha paura di niente sta cosa mi fa venire in mente un meme che gira da tipo 15 anni su facebook di dei ragazzi che postano un selfie dicendo tipo solo noi siamo così pazzi da fare una cosa così trasgressiva stessa cosa sta ragazza incredibile quanto è coraggiosa ad aver urlato fuori da scuola ci sono due cose che sono veramente pessime di questo video e ancora non abbiamo visto la parte peggiore la prima è che qualcuno possa pensare di voler tornare a scuola non per fare qualcosa di utile per se stessa ma per andare a dare fastidio agli altri facendo casino e basta e la seconda è che dopo aver formulato questo pensiero le sembra totalmente intelligente che era il caso di condividerlo con il mondo intero peccato che poi sia stata totalmente distrutta nei commenti al punto che si è ritrovata a doverli bloccare ma a quello ci arriviamo tra poco piuttosto andiamo avanti col video e ancora ci spiega la parte peggiore di questo suo piano geniale il fatto è proprio questo cioè a me manca raga andare a scuola per fare letteralmente il casino ma che vi mi spiega che tipo di vita devi fare per inventarti una cazzata del genere cioè veramente non è un cazzo da fare la tua unica preoccupazione è inventarti una cagata astronomica esserne convinta dirlo al mondo e poi essere asfaltata perché per fortuna esistono i soci a volte sono pieni di persone cattive veramente troppo anche che non dovrebbero neanche poter esprimere la propria opinione ma tante altre volte sono persone che ragionano e ti dicono ti mettono la realtà davanti agli occhi e ti fanno un po' tra virgolette sbattere la testa per farti capire ci sei o ci fai come sembra aver capito tu gliel'ha detto l'ha successo proprio quello nei commenti però io dico ma com'è che io vorrei come dici tu Fish che vorresti avere la sua materia grigia per un paio d'ore così ti riposi un po' io vorrei avere il suo cervello per anche io un paio d'ore per vedere come ragiona questa persona perché io non riesco a spiegarmi che tipo di ragionamenti fanno nella testa queste persone che tipo di vita vivono per inventarsi cazzate di questo genere può essere anche tutto fake solo per attirare l'attenzione non credo dai che il cazzo deve essere veramente un genio del male per inventare queste cazzate cioè lei sembra anche bella convincente non lo so comunque vabbè andiamo avanti quindi ho pensato appunto a questo mi iscriverò in un liceo scrivetemi i vostri licei e raga immaginatevi oddio immaginate come è strafatta non si rende conto ok piccola interruzione ma sono io che ho visto male oppure dopo che ha sbattuto sul tavolo il tavolo ha letteralmente cambiato colore ma vabbè non facciamoci troppe domande sarà stata quello leggerissimo make up che indossa andiamo avanti immaginatevi raga che è una certa in questo anno qua di scuola entro io faccio ciao ragazzi facciamo casino lo state sentendo anche voi quel fastidio che mi sta boh mi viene voglia di prendere schiaffi qualcuno qualcosa non qualcuno cioè qualcosa ok ma io comunque non è possibile paragonarla a Maria Sofia cioè Twiner non no io non la paragonerei a Sofia proprio per niente Sofia sembra anche intelligente nelle cose che dice ma questa è veramente fuori guarda onestamente me lo immagino come un incubo e come film di orrore poi per carità se dovessi rimettermi nei panni del Twiner che va alle superiori nel giorno in cui mi toccavo essere interrogato e non avevo studiato probabilmente sarei stato pure felice nel vederla entrare e fare un po' di casino ma poi il pensiero subito dopo che avrei dovuto sopportare per tutta la mattina quelle scenate probabilmente avrei preferito comunque venire interrogato prendermi due e basta facciamo casino e lo faremo per essere espulsi raga tra l'altro è proprio identico come al collegio sono entrato ho detto raga facciamo casino divertirmi voglio far casino voglio quindi lei mi sa che è rimasta bloccata nel loop del collegio raga crede che la realtà sia tutta finzio cioè lei è letteralmente bloccata in un film mi sa forse ha perso i contatti con la realtà non lo so prendono un sacco di note per poi essere espulsa e tutto ciò verrà postato sui social ovviamente ma che esempio di merda dai di merda di merda di merda di merda di merda tipo due volte al mese appaio io in classe che faccio ok raga oggi è il giorno in cui vi divertite tutti ragazzi non pensavo che l'avrei mai detto ma erano veramente meglio i discorsi di Maria Sofia cioè quelli del collegio non so dove siano andati a fare i casting per questo programma perché ho visto qualche reaction per esempio alle interviste fatte collegiali dove dicevano cose ridicole ma ho sempre pensato che fossero piuttosto recitate ma qui siamo fuori dal programma perché stanno andando avanti a recitare dopo aver sentito questa iniziativa la mia domanda meglio farsi mettere incinto dal dottor Bauer a sto punto mi sa che guardiamo un video inerente a sto discorso dopo non mi ricordo cos'altro c'è in lista però è veramente sono già diversi mesi non so quasi un anno che guardiamo diversi video di questo tipo non lo so non ho perso il conto e ogni volta che io vedo un video ma anche tiktok quando facciamo reaction a tiktok vedo determinati casi umani e dico siamo arrivati a vedere il caso umano più caso umano di sempre non è vero c'è sempre fuori c'è spunta fuori sempre qualcuno di nuovo ed è assurda come cosa non finisce mai sono tipo come il virus si spargono ovunque si espandono non lo so spuntano fuori come i funghi boh hanno solamente una e cioè perché per quale motivo se non ti interessa ciò che la scuola ti potrebbe offrire andare comunque solamente per fare casino nel senso ci può anche stare l'idea di non voler continuare gli studi anche perché immagino che lei dai social sia già guadagnando piuttosto bene anche se e poi c'è sta cosa che grazie alle minchiate e il loro ritardo riescono a fare un botto di soldi mi dà fastidio questo adesso prendo i calzini che mi servono ho caldo ho caldo ma devo mettermi i doppi calzini perché ho la finestra aperta e l'aria passa esattamente sotto e se prendo fra i piedi poi mi ammalo e non va bene dovessi dare un consiglio un diploma è meglio averlo che non averlo anche perché non si sa mai come potrebbe andare la vita però ci può stare comunque la sua scelta ma allora semplicemente fai quello che devi fare senza dare fastidio a gente che invece è lì per lavorare e anche agli altri studenti che sono lì per imparare qualcosa anche perché a mio parere ci sono due cose molto sbagliate la prima è ovviamente andare in una scuola giusto per dare fastidio che penso si comprenda già da sempre che è sbagliato ma poi c'è un secondo fattore e cioè che lei con questo video ha detto che vorrebbe andare in una scuola consigliata proprio dai suoi fan e non usa il singolare quando dice del farsi cacciare facciamo casino e lo faremo per essere espulsi ora è molto probabile che se davvero qualche fan la chiamerà per andare nella sua scuola è perché anche lui o lei questo fan non è che abbia delle intenzioni molto ma è ovvio che lo farà soprattutto se deve andare nelle classi con i quattordicenni quindi qualche quattordicenne stupido ci sarà che scrive qualche commento vieni nella mia scuola per forza mica sono tutti intelligenti sono già non sono tutti immaturi ancora con l'idea anzi si stanno sviluppando proprio in quel momento tossire con la scuola e magari sono anche loro lì per perdere tempo ma rimane comunque il problema per tutti gli altri che invece sono lì davvero per imparare qualcosa oltre al fatto che come ha detto lei se lo facesse davvero dovrebbe ricominciare dalla prima superiore se ho capito bene il che vuol dire che si ritroverebbe con ragazzi non troppo grandi e che magari venendo in classe un influencer che hanno visto anche in televisione qualche anno prima e che si comporta in un certo modo potrebbero essere più invogliati anche l'ora di imitarla com'è che si chiama lei? non hai detto il suo nome? no volevo aprire il tiktok per guardare altre cose che fa ma non voglio rovinarmi la serata quindi no sperando magari di entrare tra le sue grazie diventare amici finire nei suoi social soprattutto perché e questo è un altro punto lei in questo video dice che questo casino che vuole fare a scuola ha poi intenzione di pubblicarlo sui social e tutto ciò verrà postato sui social e in realtà penso che sia una cosa totalmente impossibile questo è semplicemente perché a scuola ci sono anche persone che lavorano professori eccetera e dubito fortemente vabbè le censura non è che se si sente la voce succede qualcosa mi sa se ti riprendi solo te stesso non succede nulla e che si presteranno a queste riprese per ricreare il collegio fai da te ma anche ah lo vuole ricreare così solo con questa vaga idea di venire ripreso e finire nei social qualcuno di quella classe potrebbe essere invogliato a fare casino anche lui solo che a differenza di queste influencer che lì solamente per divertirsi e se viene cacciata se ne frega perché tanto ha la sua carriera con i social se uno di quella classe viene cacciato viene cacciato e basta senza guadagnarci niente in seguito questa ragazza in questo tiktok pubblica anche la scena di quando va ad annunciare questa bellissima notizia alla madre andrò a scuola vai quando? sì ma aspetta andrò in una scuola solo e solamente per divertirmi farò una presenza ogni due mesi l'apparizione farò tanto povera madre che pensa ma dio mio che ho messo il mondo tanto per fare casino ed essere espulsa non ci è bastato come di prima sì effettivamente quale genitore non sarebbe fiero e felice nel vedere la propria figlia che annuncia questa fantastica iniziativa orestamente non so come mai così tante persone che sono uscite dal collegio e hanno avuto un boost iniziale di fama alla fine decidono di usarlo per situazioni così discutibili da un lato immagino che sia anche perché partecipando da ragazzi magari non si ha molto bene la maturità del sapere che cosa farne come gestire la fama ma perché scusami se ti becchi la fama quando sei giovane o comunque sei ancora un po' deficiente cioè non formato psicologicamente mentalmente matura non sei maturo la fama funziona da da boost al tuo ego quindi che cazzo c'è non so come spiegarvelo in poche parole però sono stupidi famosi per qual poco e credono di essere diciamo invincibili o comunque pensano al fatto di essere a posto così come sono perché comunque come conseguenza hanno la fama qui non devono cambiare nulla perché c'è sempre qualcuno che guarderà quello che fanno perché si sono magari diventati famosi grazie al collegio quindi sono già importanti non so se mi sono spiegata ma eccetera ma dall'altro anche perché è evidente che nelle ultime edizioni i partecipanti ci andavano con zero interesse nel programma ma solamente nei follower che ci avrebbero guadagnato per questo ragazzo del video di oggi io spero che non porti davvero avanti questa idea perché sarebbe una perdita di tempo sia per i professori che per gli studenti ma alla fine anche per lei io spero invece che lo faccia spero che lo faccia perché voglio proprio vedere tutta la merda che le arriva addosso cattivo da dire si è cattivo il karma ti punirà tu decidi di fare una roba falla magari lo dici per memare magari sei seria come persona e quindi quello che hai detto lo devi fare e vediamo adesso cosa succederà se no che cazzo parli a fare dato che potrebbe fare cose molto più produttive per se stessa durante quelle ore ma adesso sono curioso di sapere la vostra opinione nei commenti e chi tra questa ragazza e Maria Sofia ha scelto il progetto peggiore per sfruttare la fama da ex collegiale per questo video comunque direi che vabbè Maria Sofia è totalmente una cosa a parte non c'entra niente però vabbè l'ha fatto per avere sai attirare l'attenzione con il nome di Maria Sofia va bene comunque è interessante tutto questo non so come si chiama non ha detto il suo nome mi sa però sono curiosa di sapere se alla fine andrà a scuola o no grande tweener next video spulci i commenti giusto vediamo vedo che comunque le labbra a canotto sono un maschio per gli intellettuali della nostra epoca a parte i capelli colorati adesso si fanno tutti i capelli neri perché non so va di moda un genitore che appaga il chirurgo per rifare le labbra alla figlia ma non mi pare molto sveglio non credo che ci sia l'intervento di un chirurgo semplicemente ti ficchi dentro un ago e lo riempi le labbra di cos'è cos'è quella roba che ti inseriscono dentro cos'è il botolino ma da cosa è composto un liquido strano qualcosa del genere non lo so non credo neanche costi tanto se si fa i soldi con i social ed è maggiorenne credo che possa fare un po' quello cazzo che vuole però vabbè comunque siamo d'accordo sul fatto che le labbra sono un qualcosa di orribile veramente io non capisco come riescono a guardarsi allo specchio e dire mi piaccio così sono bella tutta completamente finta vabbè disturbare lo svolgimento delle elezioni costituisce l'interruzione di un servizio pubblico ed è un reato è arrivato mi fanno ridere un po' questi commenti perché ok potrebbe essere anche vero probabilmente però madonna santa ma che cazzo non l'ha mai disturbato in classe e non è successo mai nulla di grave adesso non lo so io quando ho finito la scuola era un po' di tempo fa non so se adesso se fai se rompe un po' il cazzo boh chiamano la polizia per dire ti denunciano non lo so mi sembra un po' esagerato dire che è reato disturbare lo svolgimento delle elezioni forse dipende come disturbi non lo so ciao Pippo no twinner non è questione di maturità ci sono persone che sono semplicemente stupide sono d'accordo assolutamente vero vero semplicemente stupide non ci puoi fare nulla saranno stupide fino alla loro morte fino alla fine dei loro giorni io sono a favore del fatto che la gente non vado offesa e assolutamente non si debba andare a scriverle nei commenti ok se non solo per esprimere critiche costruttive ok ma come si fa a non dire che questa non sia una cogliona mi ha fatto ridere non è diventato padre dopo il calippo tour così velocemente eh non ho capito ciao beh buonasera questo è più un botolino che i libri in casa vabbè raga ho la terza media regalata aggiungerei vabbè è mostruosa è terribile da dire ma sono mostruose quelle labbra ma perché c'è gente che occupa spazio e consuma ossigeno questo è l'ultimo commento che leggiamo di questo video purtroppo ce ne sono troppe di persone che occupano spazio e consumano il nostro prezioso ossigeno e che ci dobbiamo fare ci sarà la selezione naturale quando ci sarà l'invasione degli zombie probabilmente non lo so boh non lo so non lo so Grazie a tutti